Venire dopo Paolo Iabichino per me è un onore, l'ho sempre considerato un maestro, lui lo sa e lo è. La mia paura era, visto che Paolo parlerà a braccio, è probabile che dica delle cose sulle quali io non sono d'accordo. Nel senso che, non essendoci accordati prima, essendo entrambi di settori completamente distanti da quello di cui stiamo parlando oggi, mi sono posto questo dubbio, lui è un uomo libero e di conseguenza ci possiamo trovare in disaccordo. No. E questa cosa mi fa riflettere, perché io ho preparato delle slide, non ci siamo sentiti prima, e lui ha toccato dei punti che toccherò anch'io con una differenza. Voglio fare qualcosa, quelli bravi lo chiamano disruptive, cioè che non c'entra veramente niente col vostro settore. Per cercare di capire una cosa sostanziale, ovvero il fatto che c'è una realtà concreta e oggettiva completamente sconosciuta a noi. E siccome Gerardo ha giustamente parlato di ragazzi, di giovani, di nuova generazione, chi sono questi giovani? Come si comportano? Come pensano? Come ragionano? Come li possiamo raggiungere? Come compreranno? Perché si sta parlando di una generazione di individui che domani compreranno casa, che domani cercheranno casa in affitto, che oggi non consideriamo potenziali clienti, ma che domani lo saranno e come. Quindi, io voglio partire da... Ho preparato alcune slide che secondo me possono essere interessanti ed evocative da una realtà che tutti quanti conosciamo. Quando parliamo di tecnologia, comunicazione e innovazione, abbiamo tutti in mente questo, più o meno. Manca YouTube, credo. Cioè i social. Ok, quindi noi sappiamo che i giovani si muovono sui social, noi ci muoviamo sui social. Che cosa rappresenta questa immagine? Twitter, un social network che oggi, se non sei Trump o Salvini, probabilmente non utilizzi. La gran parte delle persone che utilizzano questo social network lo utilizzano in ottica di ascolto, non di produzione di contenuto. LinkedIn, piattaforma straordinaria, potentissima, che oggi funziona tantissimo, che dà straordinaria soddisfazione in ottica di numeri. Ma provate ad andare in una scuola media o in una scuola superiore e chiedere che cos'è LinkedIn? Dicono non lo sappiamo. Non ne hanno idea. Quindi, qua si comincia a definire un profilo che vada... Noi ragioniamo in un certo modo su una certa realtà che non è la loro realtà. Instagram, questa piattaforma che in qualche modo utilizziamo tutti, ma che noi interpretiamo come la piattaforma dei giovani, e i giovani interpretano come una piattaforma che, vabbè, sì, è ok, però forse non è l'unica da utilizzare. Facebook, sapete qual è l'età media delle persone su Facebook? 40 anni o 41, lo leggevo proprio poche settimane fa. Possiamo definire una piattaforma social innovativa a livello comunicativo, a livello di presenza, a livello di pubblico, se l'età media è 40 anni? Se dovessi rappresentare questa realtà che vi ho appena descritto con un'immagine, io ci ho pensato un sacco, ho detto, quale immagine posso utilizzare per far sì che le persone capiscano esattamente che la realtà può essere una, ma può avere diversi strati? E ho pensato a questo. Adesso, quando vedrete questa slide, so che avrete tutti una reazione. ho messo una domanda. Chi è? Allora, in questo momento, visto che ci sono circa, appunto, poco meno di un migliaio di iscritti, so che circa 400 stanno facendo perché gli farà schifo, altri staranno facendo così perché è un gran figo e altri diranno ma chi se ne frega. Ma tutti, tutti, tutti sappiamo che lui è Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo non è un calciatore. Cristiano Ronaldo è un'industria mediatica. Cristiano Ronaldo è un media. Perché ho messo lui come immagine? Perché non importa che lavoro facciate, non importa chi siate, non importa che cosa vendete, quali passioni abbiate, non importa il vostro sesso, la vostra età o quello a cui siete appassionati, ma tutti lo conoscete. Tutti. È la realtà rappresentata in un'immagine. La realtà che tutti conosciamo. E perché la conosciamo? Perché, dicevo, non è un calciatore, è un'industria mediatica. 242 milioni di follower su Instagram non sono normali, capite? L'aeroporto di Madeira, in Portogallo, si chiama Aeroporto Internazionale Cristiano Ronaldo. All'ingresso dell'aeroporto c'è una sua statua a grandezza naturale, credo in bronzo. Poi c'è qualcuno che dice è un montato. Sai com'è. Se l'aeroporto di Ferrara si chiamasse Aeroporto Internazionale Rudy Bandiera e ci fosse una mia statua, probabilmente lo sarei anch'io. 2,5 milioni di euro al mese, sono 30 milioni l'anno, di ingaggio solo da Juventus. Lasciamo perdere gli sponsor, che sappiamo benissimo, che duplicano probabilmente questo fatturato. Quindi, Cristiano Ronaldo è di fatto un'industria mediatica. Ed è per questo che la conosciamo. È per questo che è evidente a tutti chi è. Ed è per questo che rappresenta la nostra realtà. Tuttavia, abbiamo parlato, Paolo prima ha parlato di giovani, ha parlato di nuova generazione. Io voglio parlare anche di nuovi linguaggi, che è stato accennato da Paolo Iabichino. Nuovi linguaggi perché se è vero che esistono nuovi luoghi, è anche vero che esistono nuovi modi per comunicare. Quindi vi voglio mostrare una realtà altrettanto performante, altrettanto profonda, altrettanto potente, altrettanto importante, altrettanto economicamente deflagrante, come quella di Cristiano Ronaldo. è una realtà del tutto misconosciuta a noi. Vi mostro una foto. Chi è? Allora, intanto se leggete di fianco c'è scritto ninja, grazie, voi direte, sarà ninja. Ora, chi di voi ha un figlio adolescente è possibile che ne abbia sentito parlare o sappia di chi si tratta? È un ragazzino con i capelli verdi o blu, dipende dal periodo della settimana o del mese, a cui è stata fatta, data, donata la copertina di SPN. Lui è Tyler Ninja Blevis, giocatore pro, pro gamer viene definito, di Fortnite, su Twitch, poi Mixer e poi Twitch. Questa è la copertina di SPN. Fermiamoci un attimo, perché so che in questa slide la metà delle parole non avete capito cosa cazzo vogliono dire. Quindi, fermiamoci un secondo e ragioniamo partendo dal fondo. SPN è il più importante canale televisivo sportivo del mondo. Trasmette tutti i più importanti eventi sportivi di questo pianeta. SPN è una TV americana, anzi, una TV ormai è un termine desueto, è un canale di comunicazione americano. Che cos'è Fortnite? Fortnite è un videogame free to play, cioè gratuito per l'utilizzo, chiunque può giocare a Fortnite non pagando un euro, che fattura qualcosa come 4 miliardi di dollari l'anno. L'azienda che lo produce si chiama Epic. Già qui dovremo un attimino scuotere la testa e mettere a posto i sassi che ci sono dentro, perché se è un gingillo gratis, ma fattura 4 miliardi di dollari l'anno, ci sfugge qualcosina. Ci sfuggono alcune dinamiche che appunto sono legate a nuovi paradigmi di comunicazione, nuovi modi di socializzare, nuovi modi di interpretare la realtà. Che cos'è Twitch? Twitch. Allora, questa è la parte che io preferisco. Twitch è un social network. Vi ho fatto vedere prima Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, tutto quello che noi pensiamo essere la realtà. Ora, Twitch è un social network comprato tre anni fa da Amazon per un miliardo di dollari. Sapete che a Jeff Bezos non piace buttare soldi, perché ha speso un miliardo di dollari per un social network che noi probabilmente non sappiamo nemmeno che esista. Perché lì ci stanno i nuovi modi di comunicare, i nuovi clienti, le persone che domani saranno gli adulti che creeranno un mercato. E che cosa succede su Twitch? Perché non lo conosciamo? Allora, fatevi questa domanda. Che cosa si pubblica sui social network? Che cosa pubblichiamo su Facebook noi? In genere tre cose, che sono quello che mangiamo a pranzo o a cena, le nostre vacanze e dei gattini. Sono le tre cose che normalmente si pubblica sui social network, Instagram, Facebook, che sia. LinkedIn è un po' diverso, anche se si sta, da un certo punto di vista, Facebookizzando. Che cosa si fa su Twitch? Visto che non si pubblicano gattini, piatti di pasta o vacanze, si condividono le proprie partite ai videogame. Cioè, seguitemi un attimo, perché questo è incredibile. Se io sto giocando a FIFA, con dei miei amici o da solo, o sto giocando a Fortnite, o sto giocando a Call of Duty, posso condividere la mia partita con i miei follower. Cioè, anziché mettere una foto di quello che ho mangiato, condivido una partita. Quindi i miei follower guarderanno me che gioco a un videogioco. Ve la lascio sedimentare un attimo nel cervello. Qualcuno, almeno 800 persone, al momento staranno dicendo ma che gusto c'è a guardare uno che gioca? Vi giro la domanda. Quando andate allo stadio, giocate voi? Cioè, quando andate allo stadio, entrate in campo a dare dei calci al pallone? No. Voi, quando andate allo stadio, guardate qualcuno che prende la vostra passione, per il calcio in questo caso, la porta al massimo livello su un tappeto erboso. Non state giocando voi. Quando guardate il tennis, non giocate voi. Quando andate al cinema, non vivete quelle emozioni direttamente, ma le vivete per trasmissione delle persone che sono dietro lo schermo in quel momento. L'essere umano non necessariamente gode di fare qualcosa, ma può godere anche del fatto che la propria passione venga portata al massimo da qualcuno che lo fa al meglio. Quindi, se Ronaldo prende tanti soldi, è perché gioca meglio degli altri a quella che per noi è una passione. Tyler Ninja Blevins gioca meglio di tutti a Fortnite e quindi, se io ho la passione per Fortnite, lo seguo. E lo fa su Twitch. Poi l'ha fatto su Mixer, che è la piattaforma competitor che oggi non esiste più da due mesi, non esiste più di proprietà di Microsoft, perché Microsoft ha detto se c'è una baracca in cui si può streamare videogame, ne devo fare una anch'io. La chiama Mixer e che cosa succede? che invita Ninja a streamare su Mixer. Gli dici, ascolta, visto che tu sei famoso, invece di fare streaming su Twitch delle tue partite a Fortnite, vieni a fare su Mixer e dice lui, ma quanto mi date per questo? 50 milioni. 50 milioni. Perché noi non sappiamo dell'esistenza di questa realtà? che è più ricca di quella del calcio, è più performante, arriva a più persone, persone diverse, pubblici diversi, non amo neanch'io la parola target perché mi sembra militarizzanti, pubblici, persone, individui diversi. 16 milioni di follower ha su Twitch, 16 milioni di persone che lo guardano giocare, 500 mila euro di fatturato al mese per contratti pubblicitari. in Italia c'è un giocatore professionista che si chiama Power che è sponsorizzato da Adidas. 50 milioni di proposte da Microsoft per andare a giocare sulla propria piattaforma, guardate questi numeri, 318 milioni di persone che l'hanno visto giocare a questa partita di Call of Duty. Quindi capite che siamo a davvero a un nuovo paradigma, a qualcosa che non conosciamo esistere, ma che adesso sappiamo che esiste e che performa tantissimo. Attenzione, vi voglio fare alcune domande per alzare l'attenzione, si dice. Qual è il prodotto di intrattenimento che ha generato maggiori profitti di tutti i tempi? Gerardo, tu lo sai? Ah, non lo sa nessuno. Allora, vi ho messo alcune risposte che sono quelle che sono venute in mente a me, perché quando dico prodotto di intrattenimento a me vengono in mente dei film o degli album musicali. E mi è venuto in mente Star Wars, è un prodotto di intrattenimento, Il Signore degli Anelli, Via col Vento, thriller di Michael Jackson, ragazzi pensate, ha venduto da solo oltre 110 milioni di dischi, solo thriller di Michael Jackson. Per farvi un'idea, i Metallica, il più grande gruppo mai esistito su questo mondo, ne ha venduti 100 milioni nella loro carriera. Ok? Un album che ne vende 110 milioni, è pazzesco. No. in realtà, il prodotto di intrattenimento che ha generato i maggiori profetti di tutti i tempi è GTA. Un videogame prodotto da Rockstar Game che solo nella quinta versione GTA 5 ha prodotto oltre 6 miliardi di fatturato. 6 miliardi di fatturato. E' questo qua che vi sto per mostrare che cos'è. Ora, voi direte questo è un tizio con dei cosi davanti e un barattolo in testa. Ah sì, senza dubbio la descrizione è corretta, ma è parziale. Questo è DJ Marshmallow che ha suonato di fronte a 10 milioni di persone su Fortnite. Fortnite macchina 2,4 miliardi di entrate annue in più rispetto a Sony Music. Cioè da solo un prodotto di Epic produce più danaro di Sony Music. L'industria della musica è bruciata da questa industria. E un concerto di fronte a 10 milioni di persone non è mai stato fatto da nessuno. È stato il concerto più seguito di tutti i tempi dal vivo. Non in tv streaming ma su un'unica piattaforma. Cioè non molti piattaforma come possono essere tutte le tv del pianeta. Quindi capite che abbiamo di fronte qualcosa di completamente diverso. Pensate che l'amministratore delegato e fondatore di Netflix dice che il suo principale competitor è Fortnite. Perché? Perché come diceva Paolo giustamente prima oggi non si compete più per vendere si compete per l'attenzione. Una volta che hai ottenuto l'attenzione devi generare fiducia. Una volta che hai generato fiducia puoi vendere. È un percorso ha perfettamente ragione Paolo in questo. Non possiamo pensare alla vendita perché se pensiamo alla vendita ci bruciamo la parte davanti che è quella fondamentale per arrivare a fatturare. Vi faccio un'altra domanda. Qual è il film più costoso di tutti i tempi? Come produzione? Pensateci un attimo filmoni io vi dico quelli che sono venuti in mente a me e li ho messi nelle slide che sono Ben Hur insomma Ben Hur sarà costato qualcosa no? Cioè c'erano due milioni e mezzo di comparse insomma qualcosa sarà costato Il Signore degli Anelli Via col Vento 50 anni che ci rompono i maroni via col vento sarà costato Titanic, Avatar i film di Cameron sono costati un botto di soldi no in realtà e questo io non lo sapevo ovviamente perché ho fatto queste piccole ricerche prima di fare queste slide Pirati dei Caraibi ai confini del mondo è costato 300 milioni di dollari non so se lo sapete ma Pirati dei Caraibi è un franchise di proprietà di Disney e ha incassato 13 milioni nelle prime 24 ore e 960 milioni nel periodo d'uscita nelle sale ora chi si intende di ritorno di investimento Roy sa che questo è un buon ritorno di investimento si parla di spendi 300 porti in casa un miliardo bravi quindi noi adesso pensiamo che sicuramente non ci può essere niente che è costato di più e ha prodotto più denaro perché queste sono cifre impensabili per noi invece Destiny di Bungie e un videogame è costato mezzo miliardo di dollari di produzione 360 milioni solo per il marketing ve le lascio passare dentro un attimo questi concetti perché ragazzi adesso arrivo al punto GTA di nuovo è costato 256 milioni e ne ha incassati 815 di milioni nelle prime 24 ore capite capite che siamo di fronte a qualcosa mai visto prima la domanda adesso è vi sto consigliando di mollare tutto e mettervi a giocare ai videogiochi beh sì ma non è questo il punto non è questo il punto non è qua che volevo arrivare infatti no non vi sto consigliando di giocare e basta ma vi sto cercando di far capire di chi stiamo parlando esiste una generazione a noi totalmente sconosciuta che è la generazione che va dai nati dal 2000 ad oggi quelli che oggi hanno 20 anni 19 18 17 16 14 15 poi gli altri sono ancora più complessi da capire ma che di fatto noi non sappiamo bene che cosa sono le generazioni sono sempre state distanti cioè noi abbiamo sempre avuto una guerra tra i padri e i figli ecco oggi questa distanza si sfilaccia ulteriormente le generazioni sono ulteriormente sfilacciate quindi io ho fatto una ricerca pochi mesi fa per Oracle per una grande azienda che probabilmente alcuni di voi conoscerà e sono arrivato a delle conclusioni che in qualche modo mi hanno ribaltato come sono queste creature vogliono contare qualcosa nel lavoro questi dati li ho presi da li ho fatti per Oracle questa ricerca l'ho fatta per Oracle da un'analisi che era stata fatta da un'altra azienda che si occupa di HR di risorse umane che si chiama Randstad vogliono contare qualcosa nel lavoro significa che vogliono avere la loro parte anche in parole all'interno del mondo del lavoro in cui stanno quindi certo vogliono imparare ma vogliono anche essere parte responsabile dell'ecosistema in cui si trovano sono più inclini ai cambiamenti amano cambiare il grande tema del posto fisso è dannatamente morto vogliono stimoli vogliono contare qualcosa vogliono muoversi vogliono fare una vita che abbia un senso al di là del trovare un posto fisso e arrivare in pensione forse se continuiamo a comunicare che abbiamo bisogno di persone che vogliono un posto fisso non è il modo giusto per comunicare con questi individui forse dobbiamo cambiare noi modo di pensare come diceva Paolo è questione di mindset è questione di modo di pensare sono più attenti a salute e ambiente allora la cosa incredibile è che nelle fasce di età chi oggi ha tra i 20 e i 25 anni la prima cosa alla quale si interessa nel momento in cui cerca un lavoro è l'etica che racchiude il lavoro che stanno andando per fare stanno andando a fare cioè se quel lavoro rispetta i loro canoni etici che generalmente sono green e dettati dalla salute pubblica di tutti noi e di loro stessi quindi forse è verso questo che dobbiamo cominciare a comunicare in questa direzione che dobbiamo cominciare a comunicare se vogliamo prendere individui che ragionano in questo modo ma non solo perché cosa fanno oltre a come sono ci sono due grandi temi che sapete che è l'essere il fare da un certo punto che sarebbe l'avere sono difficili da impressionare allora ragazzi una generazione che ha tiktok e che ha twitch e che ha instagram e che ha scusate se vi dico queste cose però è che ha tutto il porno del mondo che ha l'onniscienza umana sui telefoni e sui computer che ha wikipedia che ha la possibilità di accedere attraverso sistemi come itunes you a tutta la conoscenza universitaria di questo pianeta gratis può essere impressionabile allora può essere una cosa positiva o negativa ma nella nostra comunicazione dobbiamo cominciare a pensare che queste creature appunto ragionano pensano amano socializzano in maniera diversa l'abbiamo visto prima abbiamo visto twitch abbiamo visto mixer abbiamo visto ninja lo stiamo vedendo adesso sono meno fedeli al brand attenzione qua è importantissimo Paolo Iabichino prima ha parlato di marca non di marchio e questo è fondamentale un marchio ragazzi è quello che si fa sulle mucche con un ferro ardente per identificare la proprietà di quella mucca a qualcuno ma quando quel marchio diventa sinonimo di qualità vuol dire che la mucca è buona perché ha quel marchio allora diventa una marca quello è un brand attenzione a questa cosa perché è fondamentale quando chiedo che cos'è un brand la gente mi dice un marchio no il marchio si fa una mucca con un ferro ardente è una cosa completamente diversa quindi perché sono meno fedeli ai brand perché sono fedeli a degli ideali che possono essere rappresentati dai brand non si avvicinano a una marca perché piace quella marca e basta ma perché è rappresentativa ed è portatrice di valori che loro stessi ai quali loro stessi credono guardate la grande tendenza green che c'è nel mondo in questi mesi in queste settimane perché da Greta in avanti perché perché ci siamo resi conto tutti che stiamo lasciando un casino di pianeta i giovani si stanno rendendo conto che non hanno più tempo e quindi la nostra comunicazione deve andare in direzioni diverse più attenti a lasciare feedback sono molto 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 interessati a lasciarli ma sono anche molto 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 attenti nel lasciarli perché perché sanno che hanno un valore hanno un potere la nostra generazione ragazzi è quella che ha sventrato TripAdvisor con delle stupidaggini e delle assurdità senza senso perché non diamo senso a quello che scriviamo online loro invece ci stanno attenti hanno un altro tipo di sensibilità completamente diversa acquistano sui social e pagherebbero di più per avere subito l'acquisto che hanno fatto attenzione anche questa qui è una cosa incredibile cioè acquistano sui social ragazzi chi è che di voi acquista sui social? non è una cosa così comune ma pagherebbero di più per avere subito si parlava prima questa mattina a colazione in realtà si parlava di cambiare telefono il cambiare telefono è quasi mai dettato da una necessità è un acquisto di impulso è perché è figo perché ti piace perché lo vuoi perché hai la scimmia e sei disposto a pagare di più perché ti arrivi subito quindi la prontezza della nostra attività di risposta agli eventuali clienti diventa una parte assolutamente fondamentale in questo settore nel vostro settore c'è un enorme problema da questo punto di vista un problema di ritardo di lag a volte di poca precisione che viene interpretata come mancanza di rispetto nel rapporto di questo tipo sta il valore dove arriveremo? la verità è che non lo so non lo sa Iabichino non lo sa Gerardo io credo non lo sappia nessuno ma c'è una cosa che sappiamo secondo uno studio del World Business Forum quindi non degli scappati di casa il 65% degli studenti di oggi farà un lavoro che oggi non esiste se noi Gerardo ha parlato di nuove generazioni a cui affidare i nostri business il nostro lavoro le nostre mansioni le nostre attività sono questi sono completamente diversi da noi oggettivamente diversi da noi il punto quindi è molto semplice dobbiamo adeguarci a questi cambiamenti e il primo adeguamento deve essere un adeguamento di linguaggio non possiamo pensare di comunicare come abbiamo comunicato dieci anni fa perché dieci anni fa non c'è più e la gente di dieci anni fa non c'è più e tra dieci anni se vogliamo continuare a rimanere aperti e continuare a vendere case dobbiamo cominciare adesso a cambiare atteggiamento amano giocano pensano socializzano comprano in modo diverso da noi ogni generazione ha pensato che la generazione successiva sia una generazione di sfigati ogni padre ha pensato che la generazione dei figli fosse una generazione di sfigati ho fatto ricerche andando indietro fino a 250 anni prima di Cristo a 450 anni prima di Cristo a Socrate Socrate scriveva che i giovani d'oggi non hanno rispetto per i vecchi non hanno rispetto per gli anziani non hanno voglia di far niente sono discinti disinibiti boccaccio che ha sconvolto completamente il paradigma della comunicazione da vecchio diceva i giovani non valgono niente non hanno spina dorsale sono disinibiti e discinti ecco non dobbiamo pensare questo perché è una castata perché l'ha pensata ogni generazione non dobbiamo pensare questo dobbiamo capirli cercare di individuare che cosa vogliono come pensano come ragionano e capire soprattutto che vogliono esperienze non vogliono prodotti la casa non è un prodotto l'abbiamo già detto l'abbiamo detto in tutte le salse hanno bisogno di qualcuno di cui fidarsi vogliono consulenti no venditori io non vado in un posto per cercare casa io vado in un posto per trovare qualcuno che mi indiristi nella ricerca di una casa che sia la persona che fa il mio interesse nel mio massimo interesse e che questo gli porti fatturato dobbiamo smettere di ragionare come venditori e cominciare ad essere consulenti voglio lasciarvi con una frase che secondo me è importantissima un certo Hemingway diceva che oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno ma quello che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi il cambiamento deve cominciare il prima possibile appena inizia deve continuare e deve proseguire nel tempo futuro qualunque cosa decidiate di essere tra cinque anni cominciate ad esserla oggi grazie a tutti e rock and roll sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti